Carissimi fratelli, sorale, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La pace, dono del Cristo risorto, di Gesù risorto, dono del Figlio di Dio che si è molato per amore, la pace è il frutto della pienezza di quest'amore che Dio riversa nel cuore dell'uomo, nel cuore del popolo, nel cuore dell'umanità. Tanti accolgono questa pace, tanti piegandosi a Gesù ritrovano se stessi. Questi giorni tante persone hanno ritrovato Gesù Cristo, tanti hanno ritrovato il loro Salvatore, la bellezza di appartenerli e la gioia anche di distaccarsi da una vita non sempre soddisfacente, non sempre sana, leale, brillante. Il Signore fratelli per questo è venuto, perciò il giorno di Pasqua, apparendo agli Apostoli, Gesù dice pace a voi, pace, pace, pace perché i vostri peccati sono rimessi, pace perché in voi c'è una nuova vita, la vita del vivente, la vita di colui che ha dato a se stesso per amore e quindi ci partecipa a questo spirito d'amore, è la vita di Gesù. È in Gesù Cristo, fratelli, sia creature nuove, come c'è l'Apostolo Paolo, che in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Però non tutti credono alla risurrezione. Nella prima lettura di oggi noi ascoltiamo un brano dagli Atti degli Apostoli, dove si narra che mentre gli Apostoli erano nel Tempio a insegnare al popolo e insegnavano la risurrezione dei morti, avvenne che i capi del popolo mandarono soldati, guardie, ad arrestarli perché molti di loro non credevano alla risurrezione dei morti, non credevano alla providenza, non credevano all'esistenza dell'anima e quindi li fecero arrestare e dopo averli messi in carcere furono interrogati da loro e fu chiesto loro con quale potere avessero guarito lo storpio alla porta bella del Tempio. Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo e cioè per mezzo di che gli sia stato salvato, sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dei morti e costui vi sta innanzi risanato. Vedete, gli apostoli sono chiamati a testimoniare, non ad annunciare delle dottrine pellegrine, a testimoniare la verità, a testimoniare i fatti. Abbiamo visto in altre circostanze come il profeta ha la funzione di dare messaggi al popolo come se Dio stesso parlasse direttamente, ma anche quello di riconoscere i segni di Dio, di interpretarli, di annunciarli al popolo per manifestare la presenza e l'azione di Dio in mezzo alla società. Come ai nostri giorni stiamo vedendo tanti che testimoniano come il Signore li ha liberati, li ha guariti, li ha rigenerati a vita nuova, ma anche guariti da malattie serie. Tanti testimoniano, altri hanno un po' di pudore come per dire ma non mi vorrei sbagliare. No, la verità va affermata, la testimonianza va data. Voi mi sarete testimoni, dice Gesù agli apostoli, prima della sua gloriosa ascensione al cielo, mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. E San Pietro conclude la sua risposta ai capi del popolo, sentite fratelli, in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Durante l'anno santo della redenzione, da parte della Chiesa, ci fu un atteggiamento di apertura verso tutti gli uomini di buona volontà, perché Gesù è venuta a salvare tutti. Ma la Chiesa a un certo punto ebbe sentì il bisogno, tramite l'allora cardinale Ratzinger, di richiamare la Chiesa stessa a queste parole. In nessun altro c'è salvezza. Sì, noi ci amiamo tutti, ci rispettiamo tutti, ma la salvezza viene da Dio attraverso Gesù Cristo. Gesù è il nome dato agli uomini per mezzo del quale noi possiamo essere salvati. Infatti c'è l'Apostolo. Non vi è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Perché? Perché la salvezza è l'irruzione dell'amore di Dio nella tua vita. La salvezza è l'irruzione della sua misericordia, ma anche il cambiamento della tua vita, la rigenerazione della tua vita nello Spirito Santo. In nessun altro c'è salvezza. Perché? Perché solo da Gesù viene lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. ci può essere qualcuno che non conosce lo Spirito, ma che lo accoglie nella sua vita. Come abbiamo visto qualche giorno fa, giorno di Pasqua per la Santezza, il centurione Cornelio era pagano, ma crede in Gesù riceve lo Spirito Santo. Non era stato ancora battezzato, ma aveva la fede in Gesù attraverso la parola di Pietro, aveva aperto il suo cuore a Gesù Cristo e nel nome di Gesù ricevette spontaneamente lo Spirito Santo insieme a tutti quelli della sua famiglia, perché Dio vuole la salvezza di tutti, ma la persona che ci comunica lo Spirito è Gesù. Perciò rendete grazie al Signore, perché è buono, dice il salmista, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. E il salmo che la Chiesa ripete continuamente in questi giorni, anche se solo a versetti del salmo 17, la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dono la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dono la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Il Signore è Dio. Questo Signore si chiama Gesù. È stato proclamato il Signore. Sappia tu con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Ecco allora, fratelli, la Pasqua è il giorno della rivelazione della salvezza, ma anche il giorno del dono della salvezza. E quando accolgono questa grazia, sono chiamati a darne testimonianza, prima di tutto con la vita, in secondo luogo, testimoniare con la parola. Si testimonia la fede con la vita che si conduce, con i figli in casa. Devono vedere i genitori gioiosi nel Signore, perché possono eseguire il loro esempio. Ma se i genitori sono tristi, sempre tessi, sempre scontenti, in contrasto l'un con l'altro, in continuazione, i figli non possono credere che la loro religiosità sia credibile. E nel Vangelo abbiamo, ascoltiamo oggi un brano, dove si racconta, dall'Evangelio di San Giovanni, dove si narra l'episodio di Gesù che si manifesta ai discepoli in Galilea. Ora abbiamo visto come il Vangelo di San Matteo, quando parla di grande mandato, non fa riferimento all'ascensione che l'Evangelista San Luca pone a Gerusalemme, sul mondo degli olivi, ma fa riferimento a un'apparizione citata da San Paolo che dice che una volta in Galilea Gesù apparve a più di 500 discepoli. E qui in Galilea troviamo l'episodio di Pietro e altri apostoli che vanno a pescare e quando era l'alba Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù e disse loro figlioni, non avete nulla da mangiare? Gli risposi no. Allora gli disse loro gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. E così fecelo e raccorse una gran quantità di pesci. E Giovanni disse a Pietro è il Signore. Piedro appena udì che era il Signore si stringe la veste attorno ai sianghi perché era svestito e si gettò in mare. E raggiunse Gesù a nuota. e quando tirarono la barca a terra raccorsero 153 grossi pesci e la rete non si spezzò benché il cargo di pesci era grande. E guardate la delicatezza di Gesù quando gli apostoli arrivano stanchi dalla pesca fa trovare loro del pesce arrostito e da lui stesso da mangiare a loro. Li precede. È un segno bellissimo fratelli. Un segno bellissimo questa delicatezza di Gesù che va incontro ai suoi discepoli affaticati e prepara il necessario per loro. Questa figura anche di tutto quell'attenzione che Gesù Cristo ha verso ciascuno di loro. e Gesù allora si avvicinò preso il pane e lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. E in questi giorni fratelli noi chiediamo a Gesù di manifestare se stesso cosa che vuol fare in questi tempi difficili e il Signore sta richiamando l'umanità intera a questa necessità di aprirsi alla sua grazia. Signore Gesù tu sei venuto non per giudicare e condannare sei venuto per darci da mangiare prima ancora che noi chiediamo tu vedi la nostra necessità ci viene incontro apri i nostri occhi alla tua presenza fa che anche noi sul nostro cammino con San Pietro troviamo un discepolo come Giovanni che ti riconosce e ti addita e rivela la tua presenza rinnova in mezzo alla Chiesa il dono della profezia il dono del discernimento perché sappiamo riconoscerti presente anche alle grosse difficoltà che stiamo attraversando tanti di noi si trovano nella condizione di vivere nel timore nella paura nell'incertezza ma tu Signore si accanto a noi manifesta la tua gloria attireci a te in questo mondo in queste situazioni rivela che tu sei presente e ci viene incontro a salvarci a liberarci a te Gesù la gloria per tutti i secoli dei secoli Amen e tu Vergine Santissima che pastorelli di Fatima dicesti un giorno ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà accelera questo trionfo per amore dei tuoi figli affamati per amore dei tuoi figli che si trovano in angoscia nella difficoltà nella confusione nella paura della persecuzione Vergine Santissima Madre Nostra riveleci quest'amore di Gesù tu sei l'annunciatrice di Gesù in questi ultimi tempi tu più che mai in tante parti di questo mondo hai annunciato l'opera di Gesù hai rivelato l'amore di Gesù continuo oggi a rivelarlo per mezzo della tua chiesa a tutto il tuo popolo a Gesù la lodo e la gloria l'onore la potenza e la benedizione per tutti i secoli dei secoli Amen e oggi fratelli se abbiamo qualcosa da soffrire accettiamolo e testimoniamo Gesù confidiamo in Gesù diamo gloria a Lui Amen Amen